Direi che è andata benissimo, un'ottima affluenza di pubblico, anche oggi nonostante la primavera ci stia facendo un dispettuccio perché appunto comincia a piovigginare, però c'è stata una bella e importante affluenza di pubblico. Abbiamo avuto gruppi di visitatori, a parte anche alcune scolaresche, soprattutto ieri mattina, che hanno girato nei vari siti aperti, ma gruppi di visitatori che abbiamo naturalmente intervistato per sapere da dove provenissero, che appunto venivano chi da Campobasso, chi dalla Puglia, c'erano gruppi di napoletani che giravano per la città e questo ovviamente ha decretato sicuramente il successo di queste giornate. Entusiasmo e partecipazione per le giornate di primavera del FAI che a Benevento hanno permesso di visitare tesori poco noti o inaccessibili. La Chiesa di San Marco dei Sabbariani o Santa Teresa, la Chiesa di Sant'Agostino, Villa Collenea e la Chiesa di San Domenico in Piazza Guerrazzi hanno accolto appassionati di ogni età, pronti ad approfittare della speciale occasione messa a disposizione dal Fondo Ambiente Italiano. Tanti gli eventi collaterali, a partire dal concerto che sabato sera ha animato la Chiesa di Sant'Agostino. In scena il Conservatorio Nicola Sala di Benevento che ha dato il via ai concerti di primavera con le quattro stagioni di Vivaldi eseguite dall'Ensemble Ortus Conclusus diretto da Marco Serino. E se il tempo non ha favorito la biciclettata della domenica mattina con il FIAB, solo pochi si sono lasciati scappare l'occasione particolarmente rara di visitare la Chiesa di Santa Teresa riaperta dopo quasi 35 anni, un luogo particolarmente caro ai Beneventani. Era curiosissimo vedere tanti Beneventani che la ricordavano perché chi ci aveva fatto lì la prima comunione, chi aveva battezzato il figlio e quindi c'era una vicinanza, insomma un senso di appartenenza a quel luogo molto forte e quindi c'è stato innanzitutto questo tipo di afflusso.